Hanno bisogno fortemente di ritrovare la loro famiglia, la loro intimità, la loro figlia, quindi c'è un grande desiderio di stare insieme ai cari e quindi di avere un attimo di recupero per poter poi affrontare i prossimi giorni che saranno impegnati. Lei ha avuto comunicazioni dell'arrivo di qualche carica dello Stato per il funerale, per il momento sappiamo che sono funerali semplici. Sicuramente ci saranno la presenza di alte cariche, però non abbiamo ancora avuto nessuna informazione in merito. Lei è stata particolarmente vicina alla madre di Fabrizia, che cosa le ha detto? La mamma di Fabrizia è una donna molto forte, è una donna che sta vivendo questa esperienza terribile con una dignità e una determinazione anche nel proteggere se stessa e la sua famiglia da una cosa più grande di loro, più grande di noi tutti, quindi lei è una mamma e quindi come una mamma è un dolore enorme, ma nello stesso tempo è una donna che sta portando avanti questo dolore con una forza ammirevole. D'altronde come è stata Fabrizia, una ragazza molto in gamba, una ragazza che si è fatta da sé e che ha saputo dimostrare al mondo a questo punto il suo valore. Grazie.